Nel prossimo video vedremo un esercizio dove c'è un urto rotazionale. Una giostra, quindi un disco, che è visto dall'alto, sta ruotando con la velocità angolare costante di 4 radianti al secondo. Una persona arriva di corsa e salta sulla giostra. Si può considerare un urto di tipo perfettamente anelastico nel caso in cui la persona rimanga attaccata con i piedi sulla giostra. Quindi la persona e la giostra rimangono uniti. E ci chiederemo se la giostra e la persona sopra, dopo l'urto, ruota più veloce o più lentamente di 4 radianti al secondo. Cioè se la giostra ha acquistato un po' di velocità angolare oppure l'ha diminuita. E vedremo sempre nel prossimo video che lo studio degli urti rotazionali è identico dal punto di vista concettuale allo studio degli urti lineari. Con la solita sostituzione che la quantità di moto totale che si deve conservare viene sostituita dal momento angolare. Quindi si applica la conservazione del momento angolare totale. Il momento angolare della giostra, A, più il momento angolare della persona che corre, B, prima dell'urto, è uguale alla somma del momento angolare della giostra e della persona dopo l'urto. Come si vede da questa equazione di conservazione del momento angolare, si considera la persona dotata di momento angolare, LB. Questo può sembrare strano perché la persona si sta muovendo di moto rettilineo, quindi un oggetto in moto lineare. Eppure un oggetto in moto lineare ha momento angolare. E l'obiettivo di questo video è proprio di calcolare il momento angolare della persona che si muove di moto rettilineo uniforme. Quindi di calcolare questo LB. Qui vediamo la persona che si trova in questa posizione e O è il centro di rotazione della giostra. PB, questo vettore di colore verde, è la quantità di moto della persona, M per V della persona. Di conseguenza, la persona ha un momento angolare che è definito, come sappiamo, dal prodotto vettoriale tra il raggio vettore e la quantità di moto di B. Il raggio vettore è questo vettore che unisce il centro di rotazione alla persona B. Sappiamo che il prodotto vettoriale tra due vettori restituisce un vettore, come risultato, che è perpendicolare al piano dei primi due. Siccome i primi due vettori, raggio vettore e P, cioè la quantità di moto, stanno sul piano del foglio, allora il momento angolare della persona sta sul piano perpendicolare, cioè sta in direzione perpendicolare al piano del foglio. E c'è solo da capire se questo vettore, momento angolare, esce o entra nel foglio. E la risposta è che esce, perché sappiamo che dobbiamo prolungare il raggio vettore che punta in questa direzione e immaginare di ruotarlo in modo da portare questo raggio vettore sulla quantità di moto. Quindi dobbiamo ruotare il vettore RB che punta in basso a destra, lo ruotiamo in questo modo dell'angolo alfa e lo portiamo in alto. Quindi in questa rotazione poniamo le dita della mano destra a girare in senso antiorario e quindi il pollice della mano destra ci dà il momento angolare di B che viene verso di noi. Ora che sappiamo direzione e verso del momento angolare, lo andiamo a calcolare moltiplicando i due moduli RB per PB per il seno dell'angolo che formano questi due vettori. E l'angolo è l'angolo alfa, il vettore RB punta in questa direzione, PB in quest'altra e tra di loro c'è l'angolo alfa. Quindi il modulo del momento angolare di B è RB seno alfa per PB. Ma RB seno alfa lo possiamo anche scrivere come RB seno di π meno alfa. Cioè andiamo ad individuare l'angolo che è il supplementare di alfa, è questo angolo qua. E sappiamo anche che angoli supplementari hanno lo stesso valore di seno. Quindi al posto di seno di alfa, cioè il seno di questo angolo, scriviamo il seno di π meno alfa perché ha lo stesso valore. Ma RB seno di π meno alfa è la moltiplicazione tra l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo e il seno di questo angolo e quindi moltiplicando l'ipotenusa per il seno dell'angolo troviamo il cateto opposto. Quindi troviamo questo segmento che rappresenta in pratica la distanza che c'è tra il centro di rotazione della giostra e la retta che sta percorrendo la persona. Questo segmento, anzi questa distanza, si chiama parametro d'urto o parametro d'impatto e rappresenta la minima distanza alla quale la persona passa dal centro della giostra. Come caso particolare, se la persona fosse diretta esattamente verso il centro della giostra, il parametro d'urto sarebbe zero. Quindi fino adesso abbiamo visto che il momento angolare della persona è un vettore che viene verso di noi e ha come valore numerico il prodotto tra il parametro d'impatto o parametro d'urto b e la quantità di moto pb. Ora immaginiamo che la persona, anziché saltare sulla giostra, prosegua di moto rettilineo uniforme e dopo un po' di tempo sarà arrivata in questo punto. Andiamo a calcolare nuovamente il suo momento angolare. La formula è sempre la stessa di prima, il vettore di nuovo esce verso di noi perché r stavolta punta in questa direzione, quindi verso l'alto a destra, pb punta in alto e se noi immaginiamo di prendere il vettore rb e di ruotarlo in senso anti-orario verso pb appunto è una rotazione anti-oraria e con la prima regola della mano destra viene fuori il momento angolare verso di noi. Il modulo di questo momento angolare nella nuova posizione della persona, quindi qua su la calcolo sempre come prima, quindi modulo, modulo, seno dell'angolo fra i due vettori. In particolare l'angolo tra i due vettori è questo angolo alfa perché rb punta in questa direzione, pb punta in alto e quindi fra queste due direzioni l'angolo alfa è questo. Ma l'opposto al vertice pure è alfa. Quindi quando andiamo a moltiplicare rb per seno di alfa vuol dire moltiplicare l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, rb, per il seno di questo angolo. L'ipotenusa seno dell'angolo vuol dire trovare il cateto opposto, quindi di nuovo troviamo il parametro d'urto b, come infatti è indicato qui, rb sen alfa è b. Quindi il risultato del momento angolare di b è di nuovo, come prima, il parametro d'urto per la quantità di moto, b, p. Quindi in conclusione il momento angolare di un oggetto che si muove di modo lineare è semplicemente il prodotto del parametro d'urto per la quantità di moto dell'oggetto, b, p. E questo ricorda molto il momento torcente di una forza. Qui non ci sono forze, però questa formula del momento torcente di una forza è molto simile e analoga a quella del momento angolare. Infatti il momento torcente, il momento di una forza, sappiamo che si calcola braccio per forza. Nel caso invece del momento angolare abbiamo una specie di braccio per quantità di moto. Quella specie di braccio è il parametro d'urto, cioè la minima distanza alla quale passa l'oggetto in modo lineare rispetto al centro di rotazione. Dunque, come il braccio della forza nel caso del momento torcente, nel caso del momento angolare abbiamo che il parametro d'urto è una specie di braccio della quantità di moto. Quindi il braccio della quantità di moto, cioè il parametro d'urto per la quantità di moto, ci dà il momento angolare di un oggetto in modo lineare.